Dottor Palenzona, 850.000 tonnellate di merci nei primi nove mesi del 2017, un più 11,2% rispetto all'anno scorso. Il settore gode buona salute, sembra? Il settore aereo in generale gode buona salute, gli aeroporti stanno investendo, il cargo è una svolta perché è un fattore molto importante per la competitività delle merci, soprattutto le merci importanti nei nostri mercati. Pensate che il cargo è il 2% del totale ma il 40% del valore delle merci trasportate, quindi il valore aggiunto è enorme, stiamo migliorando, si può fare ancora di più e penso che lo faremo. Cosa devono fare gli aeroporti italiani per tenere il passo sulla logistica europea? Gli aeroporti stanno investendo e anche loro devono fare la loro parte, mi pare che la stiano facendo dopo i contratti di programma, si è sbloccata la situazione. Poi abbiamo bisogno che tutte le istituzioni facciano la loro parte, certamente lo dirò, le dogane hanno fatto grandi passo avanti, però rispetto al resto dell'Europa siamo ancora indietro.